e colpiremo alle braccia fino a farle crollare guardate adesso tocca il collo una volta tagliati i muscoli che sostengono la testa punteremo di colla nuca incredibile lo attaccano perfettamente coordinato senza la necessità di scambiare una sola parola di certo questo è possibile per la profonda fiducia che c'è tra loro è così che hanno superato ogni difficoltà e che sono sempre in grado di dare il meglio di sé io proseguirò senza neanche voltare perché ho fiducia in tutti loro è questa la scelta giusta finalmente l'ho capito allora deciditi io stesso non saprei che cosa consigliarti nessuno può prevedere il risultato finale l'importante è non avere alcun rimpianto adesso attacco la nuca ma come? non può essergli già tornata la vista è troppo presto non si è capito deve aver dato la priorità ad un solo occhio ma da niente tempo ma com'è possibile? Petra, presto rimettiti in posizione Petra, mettiti in selva e adesso muori! non ci credo le lame si sono spezzate adesso 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 ci penserò io maledetto! Edwin!